Non lo tenere così che ti riuscivi a far cadere. Qualcuno parla con io? No, non parla a nessuno con me. No, non parla a nessuno con me. Ma tu corti. Ti sento il video? Si. Ma scusa, quello che devi fare al liano al liano dovevi farla. No, non parla a nessuno con me. Grazie.